Grillo è tornato dal blog ad attaccare le riforme, quella scritto che vuole la P2, Renzi è il capo dello Stato, parafrasando una vecchia canzone di Guccini, un vecchio e un ebbetino si presero per mano. Poi ad Agorai il leader dei 5 Stelle ha assicurato che in caso di vittoria alle europee pretenderà di governare. 25 maggio è un bivio, o noi o loro, lascia perdere. Se il Movimento 5 Stelle vince le europee, lei va da Napolitano e chiede di avere il governo in mano. Assolutamente sì. Noi prepareremo una bella squadra di governo, andremo lì e governeremo questo paese. Ha già un'idea per chi potrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio? No, no.